Siamo in piena emergenza. Una situazione del genere non era prevedibile in alcun modo. Il livello di allerta diramato dalla protezione civile regionale nella giornata di ieri non era sicuramente quello massimo attestandosi su un livello arancione, rosso solo per la Liguria. Così il sindaco di Livorno Filippo Nogarina a proposito della pesante alluvione che ha colpito la città da lui amministrata. Non era in nessun modo immaginabile pertanto, aggiunge, che potesse verificarsi una catastrofe simile. Gli ultimi rilievi attestano che in sei ore sono caduti 200 mm di pioggia che hanno comportato l'esondazione di molti rii con un'ondata di acqua che ha letteralmente travolto la città, fatto crollare infrastrutture provocando smottamenti. Alle 11 si è svolto un briefing operativo in diretta, in collegamento con la protezione civile nazionale e regionale, nel corso del quale è emerso, tra l'altro, l'impegno della regione a fornire entro un'ora alla protezione civile nazionale il dato sulle esigenze di drovo reprevisto per le prossime ore, che saranno fatte arrivare dalla regione Liguria, Emilia-Romagna e Lombardia. Il Comune ha confermato che al momento risultano cinque i morti accertati, i corpi sono stati rinvenuti in via Nazario Sauro e in via della Fontanella, a Montenero Basso. L'ospedale è in piena attività e in condizioni di ricevere chiunque necessiti di aiuto. Proseguono intanto le operazioni di soccorso e coordinamento per ripristinare la situazione in città. A porta a terra nell'area del Palamo di Liani è in arrivo una colonna della Protezione Civile Nazionale per il supporto tecnico per i necessari interventi. Sempre a porta a terra, continua il Comune, devono convergere tutti i volontari, sono richiesti solo volontari strutturati che facciano parte di associazioni, dove sarà presente una segreteria dedicata per la registrazione e per il coordinamento sul territorio. Punto tante, prosegue ancora l'amministrazione comunale in una nota, le forze locali e imprenditoriali che stanno dando la loro disponibilità per fornire un aiuto. Anche in questo caso i mezzi dovranno convergere nella stessa area di porta a terra, previo coordinamento operativo con la sede della Protezione Civile di Via Maria Terreni. Le operazioni di soccorso interessano tutta la città ma si concentrano in particolare nelle zone di Montenero e Quercia nella dove la situazione è particolarmente critica. Massima attenzione anche per la zona di stagno mentre continuano ad essere monitorati costantemente i ri della città, in particolare il rio Ardenza. Punto nella struttura del Palamo di Liani, prosegue la nota, è in corso l'allestimento di un punto di prima accoglienza per la notte per chi avesse necessità di una situazione alloggiativa di emergenza a fronte dell'inagibilità della propria abitazione. Suggerisci una correzione.